buona giornata amici di fano tv oggi è mercoledì 2 novembre 2022 una giornata particolare semifestiva non è rossa nel calendario ma nel cuore di tutti i cittadini oggi è una giornata che viene dedicata ad una incombenza particolare ovvero la commemorazione dei difunti e proprio con questa iniziativa noi apriamo la nostra rassegna stampa dando vita all'almanacco oggi dunque si festeggia anzi si celebra la commemorazione dei difunti un giorno particolare per le persone che amiamo e che non ci sono più oggi in tutti i cimiteri si celebrano messe di suffragio in particolare segnalo quella che si celebra oggi alle 10 30 nel cimitero centrale di via della giustizia fano con la partecipazione del vescovo armando trasarti ci sarà anche la deposizione di una corona dall'oro sul cibo che ricorda i caduti in guerra una parentesi di carattere civile in una cerimonia ovviamente di carattere religioso questa dunque la festa di oggi ora passiamo alle previsioni del tempo il tempo si mantiene mite su tutta la regione nonostante che in questa settimana si prevede un cambiamento della situazione vediamo che le previsioni ci dicono che i cieli si manterranno in prevalenza nuvolosi per l'intera giornata ma non ci sarà pioggia i venti saranno al mattino deboli da nord e nord ovest al pomeriggio moderati da nord e il mare è quasi calmo e le temperature oscilleranno dai 13 ai 20 gradi abbiamo ancora qualche lieve superamento della media stagionale quella autunnale ed ora apriamo i giornali ma prima vediamo anche un'immagine un'immagine di fano un'immagine che punta la telecamera in una delle zone più belle della città ovvero quella quella zona archeologica che si estende tra il bastione medievale del nuti all'arco di augusto ovvero alla porta d'entrata della città che risale al nono 6 al nono anno dopo cristo quindi un'antichità che supera i 2000 anni bellissima quest'immagine abbiamo la luce dell'alba che sta inondando appunto i reperti archeologici la zona dei giardini un luogo un luogo di incontro importante soprattutto per i giovani che viene attentamente però vigilato dalle telecamere ed ora diamo un'occhiata ai giornali aprendo la pagina di fano partire dal resto delle carlino e vediamo di una parliamo di una bella iniziativa che riguarda il risparmio energetico e l'uso delle fonti energetiche alternative spunta un parco eolico a largo della costa di fano ecco il nuovo progetto da 84 torri nel mare la società che la propone è la agnes rs rl però è ancora allo studio fa parte di un programma molto esteso che si delineerà lungo tutta la costa adriatica l'impianto rientra infatti in un disegno più ampio che sta procedendo 84 turbine eoliche galleggianti da 10 megawatt ciascuna delle quali alta 170 metri e con un diametro di rotore pari a 260 metri il cui basamento è stato adattato per ospitare pannelli fotovoltaici da 2,2 megawatt e mezzo integrati nella struttura raggiungendo una potenza complessiva di 1050 megawatt questi sono i dati di questo mega impianto ovviamente si tratta di un impianto considerevole un impianto capace di produrre un quantitativo ingente di energia ma a questo punto sia per quanto riguarda le centrali di estrazione del gas lungo l'adriatico che gli impianti eolici costituiscono ormai l'unica alternativa allo sviluppo del prezzo del gas che viene estratto dal sottosuolo e le spiagge hanno perso un'occasione ci dice oggi il resto del Carlino perché? perché mentre Pesaro sta approfittando di questo clima mite e sta ospitando molti molti turisti a Fano invece cosa è accaduto? è accaduto che i concessionari di spiaggia hanno chiuso in maniera preventiva precoce direi le loro strutture in vista di qualche temporale che ha caratterizzato così il mese di ottobre ma poi il tempo si è ristabilito e molti turisti non hanno trovato quell'accoglienza che invece hanno trovato in altre occasioni ma le spiagge hanno perso un'occasione scarsi servizi e accoglienza malgrado l'ottobre più caldo di sempre in titola il giornale e poi vediamo l'argomento del giorno l'argomento del giorno è quello delle visite ai cimiteri una incombenza che molti cittadini osservano oggi e prassi andare a visitare le tombe dei propri cari ma c'è anche questo aspetto particolare a parte le inumazioni delle cremazioni che stanno acquistando sempre più interesse cremazioni tendenza consolidata e c'è chi vuole anche fido nell'urna ovvero anche gli animali di affezione vengono cremati per poi essere sepolti costuditi in piccoli contenitori l'impianto dell'olivo a Fano ha già effettuato 160 interventi fino a settembre e non ci sono stati rincari per l'energia nonostante che Antonio Muggito che è l'amministratore unico di AdriaCom la società che gestisce l'impianto di cremazione ha detto che l'impianto ha fatto registrare un incremento di consumi dell'80% per l'energia elettrica e del 110% per quanto riguarda il gas però non ci saranno ripercussioni perché si rivolge a questo impianto infatti i rincarichi non saranno scaricati sui cittadini e quindi sugli utenti ma li assorberà la società anzi AdriaCom ha detto Muggitu applica una riduzione del 10-15% rispetto ai prezzi che sono fissati a livello nazionale quindi ancora più convenienza ma dalla sepoltura tradizionale quella dell'inumazione, della tumolazione alla cremazione è in crescita in tutta la provincia e ora si pensa anche alla costruzione di un piccolo impianto di cremazione per gli animali da compagnia ovvero cani, gatti, anche coniglieti o tartarughe che siano ebbene dal 1 gennaio 2023 commenta il presidente di ASPS Luca Pieri prenderemo in gestione a Pesaro il gattile i due canili comunali e il cimitero degli animali di Santa Veneranda attualmente gestiti da associazioni private e stiamo ragionando sulla possibilità di costruire un impianto di cremazione dedicato agli animali domestici un impianto che verrà realizzato però a Pesaro e non a Fano mentre l'impianto di Fano è un impianto che opera a livello provinciale e anche extra provinciale perché molti confluiscono appunto al cimitero dell'Olivo per fare questa operazione e dato che siamo a novembre il Natale non è molto lontano tant'è ce lo ricorda questo articolo pubblicato dal resto del Carlino Don Marco Polverari pensa già al presepe meccanico di Palazzo Fabri e c'è anche una nuova scena rappresenta il ritorno di Gesù a Nazareth e arricchisce il tradizionale allestimento natalizio di Palazzo Fabri un allestimento che è un'attrattiva turistica oltre che religiosa di grande importanza pensate che nell'ultimo anno solare nonostante le restrizioni imposte dal Covid che lo hanno fatto aprire solo su prenotazione ai possessori di Green Pass quello di il presepe di San Marco ha ricevuto circa 10.000 visite 10.000 visitatori che sono penetrati in questi sotterranei dove sono allestiti 50 diorami che partono dall'inizio della creazione del mondo ovvero dall'inizio della Bibbia e giungono fino alla fine fino al momento della ressurrezione di Gesù e quindi al Nuovo Testamento quest'anno dicevo la nuova scena è il ritorno di Gesù a Nazareth dice poi Don Marco abbiamo proseguito nel completamento della piazza 20 Settembre come era prima della guerra del crollo dei Campanieri una bella ricostruzione storica che fa vedere come Fano era un tempo era una volta e invece qua dobbiamo riportare un episodio inqualificabile insulti razzisti a una ragazzina di 15 anni a un atleta lo sdegno del mondo dello sport un genitore fanese dagli spalti avrebbe rivolto pesanti offese alla giocatrice di calcio Anconetana la condanna della società se accade di nuovo ritireremo la squadra poi anche una presa di posizione di Marta Ruggeri consigliera comunale del Movimento 5 Stelle un pessimo esempio lo ha definito un genitore fanese quarantenne si sarebbe lasciato andare ad un insulto razzista nei confronti di una giocatrice di colore quindicenne Anconetana durante l'incontro di calcio femminile Under 17 Alma Juventus Fano Ancona Rexpect vinto dall'Alma per 2 a 1 l'episodio è avvenuto domenica scorsa all'esterno del campo della trave tra due spettatori che hanno commentato un episodio della partita uno dei due si è lasciato scappare questa espressione lasciato scappare è un eufomismo adesso ti sbianco sei una mangia banane questa sarebbe stata secondo alcuni testimoni la frase incriminata nei confronti di questo quarantenne ebbene da tutti questa frase è stata condannata soprattutto dalla società Alma Juventus che nello stigmatizzare con forza l'episodio di razzismo ha detto che è un fatto gravissimo anche il presidente Mario Russo a nome della società Granata ha condannato l'atto discriminatorio scusandosi insomma sono diversi coloro che sono apparsi sdegnati compresi i tifosi Via Nolfi notti in sonne e degrado noi ostaggio di bande di ragazzini da tempo i residenti di Via Nolfi sono ostaggio di bande di ragazzini che si radunano in alcuni punti di Via Nolfi e qui fanno di tutto magari si ubriacano poi deturpano le facciate delle case con le bombolette spray fanno di peggio nelle porte dei portoni vomito sporcizia insomma veramente è una situazione che ogni tanto si ripete arrivano i vigili per il momento la situazione si calma poi riprende come sempre e purtroppo le vittime sono i residenti e ora passiamo a Colli al Metauro a Colli al Metauro si interviene sulle strade sulla cura e la manutenzione delle strade una terapia da 1,7 milioni di euro questo è il totale dell'investimento in 5 anni che l'amministrazione di Colli al Metauro ha impiegato sulla cura delle strade per la manutenzione straordinaria delle strade comunali si tratta di opere per 200 mila euro quelle dell'ultimo intervento lo ha evidenziato il sindaco Pietro Briganti che interesseranno via Venarelli via del Vallato nel tratto di via Venarella e via Cerbara la traversa di via Sacca è un segmento di via Vittorio Veneto oltre all'incrocio di via Cavallato con via Ferrara queste strade verranno dunque bitumate e ovviamente ci sarà più tranquillità per i passanti che non correranno il rischio di inciampare e ieri giornata di festa si è verificato un incidente un doppio incidente sulla superstrada Fano Grosseto nel tratto tra Lucrezia e Calcinelli ebbene qui ci sono verificati due tamponamenti il primo il primo tra dunque vediamo un attimo il primo tra un SUV Nissan che ha tamponato un furgone e subito dopo con le formarsi della fila un furgone Ducato che ha tamponato un Opel Astra quattro le persone coinvolte ma solo tre tra cui una ragazza quelle che hanno avuto bisogno del ricovero in ospedale non sono gravi questi feriti comunque i disagi sono stati tantissimi perché per circa un'ora la superstrada in quel tratto è rimasta chiusa lunghe file si sono prodotte per diversi chilometri e quindi il pomeriggio del giorno di tutti i santi non è stato molto felice per molti automobilisti che hanno dovuto osservare una lunga sosta un lungo fermo a Sant'Ipolipo si inaugura un monumento alle vittime del Covid la cerimonia è prevista oggi al cimitero l'opera è dell'artista Pliccat e si intitola Dialogis ovvero ciò che mancò nelle fasi più buie della pandemia e non si poteva ovviamente dialogare comunicare ed è mancata la socialità in quelle giornate triste in cui tutti eravamo chiusi in casa a Urbino a Urbino si incentiva l'amministrazione e tutti coloro che possono ristampare le opere di Volponi la proposta è dello scrittore e giornalista Vittorio Emiliani le nuove generazioni devono conoscere almeno i romanzi fondamentali di questo importante riferimento alla cultura urbinate Paolo Volponi uno scrittore che ha impresso di sé caratterizzato di sé molti anni dell'attività urbinate in modo particolare dell'università e poi per quanto riguarda Urbino c'è soddisfazione per la nomina a sottosegretario di Vittorio Sgarbi un plauso anche dalla opposizione Sgarbi che per quanto riguarda Urbino ricopre anche un incarico istituzionale può fare molto per la città Ducale soprattutto ha promesso di fare ritornare quella pala di Montefeltro quella pala che ora è custodita a Brera e che è uno dei tesori più belli purtroppo portati via durante le spogliazioni ottocentesche da Urbino faceva parte dell'arredo di San Bernardino il mausoleo del Duca Federico e appunto degli altri duchi insomma una opera d'arte importante che dovrebbe tornare ad Urbino e Vittorio Sgarbi ha promesso che almeno temporaneamente potrebbe tornare a Cagli prende piede il turismo speleologico cresce e si fa un raduno internazionale Michele Betti Presidente della Federazione da appunto di questa branca di attività dice dall'esperienza del gruppo Urbinate si sono avviate nuove prospettive anche Pesaro e Vallefoglia hanno dato il via ricerche di cavità da esplorare il settore si annuncia in crescita i misteri che nasconde il sottosuolo le cavità montane i misteri per quanto riguarda la geologia ma anche la frequenza umana in epoca preistorica sono delle attrattive importanti che possono incentivare anche il turismo e diamo un'occhiata anche alle pagine pesaresi del resto delle Carlino si evidenzia come una struttura rinnovata abbia funzionato doppio assalto al mercato e al cimitero di San Decenzio e il nuovo parcheggio tiene bene la marea di persone che hanno frequentato sia il cimitero centrale sia il mercato era ora che venissero introdotti altri posti auto hanno detto i commercianti ma c'è però chi protesta i due eventi insieme potevano essere evitati il mercato e il cimitero magari hanno creato un po' di confusione però insomma chi va al cimitero e trovare un posto auto disponibile nelle vicinanze è un servizio importante che è giunto gradito qui invece non è giunto a gradito una mancata promessa quella della società autostrade che aveva si era impegnata a realizzare i boschi urbani la favola dei boschi urbani chi li ha visti? su 20 ettari neanche un albero piantato la società autostrade doveva progettarli nel 2021 ma si va avanti a colpi di proroga Gambini del Partito Democratico rischiamo di perdere un'occasione preziosa e qui vediamo in questa in questa tabella in questa pianta dove avrebbero dovuto essere collocati questi alberi sono 13 avre che insisterebbero su Borgo Santa Maria Villa Cecolini in strada dei Pioppi nei pressi del Galoppatoio e nella strada delle Regioni poi anche a Torraccia nella zona verde tra via Solferino e via San Martino a Santa Veneranda in via del Novecento a Monte Granaro e a Trebbio Antico però insomma qui rimane la situazione come adesso e non ci sono boschi casco ingombrante ruba lo spazio ai bimbi ecco qui il grande casco che pesano nei pressi della palla di Pomodoro a posizionare al posizionato per ricordare insomma che la provincia di Pesaro è la patria di Rossi di Valentino Rossi però c'è gente insomma che si lamenta perché lo spazio era dei bambini ora cosa succede? succede che questo casco molto molto grande molto molto ingombrante insomma ruba spazio ai giochi dei bambini e i genitori si lamentano mentre la zona invece viene frequentata da appassionati di motociclismo da turismi e via dicendo insomma uno è contento l'altro è scontento invece a Gabice Pesaro volano attiriamo turisti toscani la regione ha diffuso i dati gennaio ed agosto confronto con gli anni 2021 e 2019 crescono le presenze turistiche in tutta la provincia per grazie anche a quest'autunno mite e vediamo come c'è una grossa ripresa rispetto agli anni del covid la gente aveva voglia veramente di andare in vacanza di liberarsi da questa oppressione che era stata indotta dalla diffusione della pandemia e ora i dati sono in aumento abbiamo superato il periodo pre-covid e migliorata la qualità dice Massimiliano Polacco della Confcommercio Marche Centrali una buona stagione ma guadagni inferiori rispetto a tre anni fa Roberto Signorini titolare dell'Imperial Sport e beh insomma poi il dato economico non fa proprio non collima con la situazione del tempo in fila per il cuore scoperte patologiche ieri tanta fila alla palla di pomodoro per farsi controllare gratis la pressione la glicemia e altro e il primario di cardiologia Tarsi segnala già problemi emersi in alcuno quindi è importante farsi visitare avere un occhio alla prevenzione per tre giorni anche oggi e domani dalle 9 alle 19 il Jumbo Track appositamente allestito è a disposizione per offrire a tutti la possibilità di sottoporsi ad uno screening cardiologico completo e gratuito che comprende lo screening di prevenzione cardiovascolare comprensivo di esame elettrocardiografico screening aritmico stampa dell'elettrocardiogramma con tutti i valori pressori e anamnestici screening metabolico trigliceridi glicemia emoglobina uricemia rilascio della card banco matthert attiva insomma veramente un esame abbastanza completo dello stato di salute ed ora diamo un'occhiata al corriere adriatico l'apertura viene dedicata al successo che ha fatto che ha ottenuto l'iniziativa di Halloween a Sant'Orso ne parlano soddisfatti gli assessori brunori cucchiarini e tinti a Sant'Orso sono stati identificati 20 ragazzi che si sono lasciati un po' ad abbandonare ad alcune intemperanze ma nella maggior parte dei casi tutto si è svolto in maniera civile e in maniera soddisfacente insomma dobbiamo dire è una bella festa quella che Sant'Orso ha celebrato in occasione di Halloween è stata una festa lieto fine dice il giornale come prometteva la locandina dell'evento organizzato a Sant'Orso hanno partecipato in tanti sia dalle quartiere che in altre zone della città una bella storia ha commentato Barbara Brunori si sono confermati molto efficaci controlli congiunti adottati dalla polizia locale ha detto Sara Cucchiarini mentre l'assessore Tinti ha commentato la seconda edizione è stata migliore della prima sotto l'aspetto organizzativo si dimostra che un quartiere può diventare modello adottando le dovute sinergie e ieri guardando la tv Rai 2 guarda chi si vede si vede un fanese si tratta di Davide Mattioli uno dei cantanti che da pizzaiolo è diventato una star a livello europeo infatti ha avuto uno straordinario successo nella Repubblica Ceca dove è diventato un personaggio un cantante simula per esempio in Italia un Vasco Rossi è veramente un idolo delle platee dei giovani la sua avventura è stata raccontata ieri a fatti vostre nella trasmissione mattutina che viene diramata sul canale di Rai 2 e beh ha menzionato anche Fano perché ovviamente lui si sente un fanese è un ragazzo che dai mestieri più semplici quello dell'idraulico del pizzaiolo è arrivato poi alle stelle del firmamento musicale ed ora è un idolo nella Repubblica Ceca festival sinergia con gli operatori per promuovere gli eventi della città continuano i laboratori organizzati nell'ambito degli stati generali del turismo qui si parla di un incontro che si è svolto nei giorni scorsi con gli operatori albergatori bagnini rappresentanti di categoria referenti di associazioni tutti coloro che organizzano degli eventi per costituire una sinergia in modo che tutti quando c'è un evento lo promuovano lo celebrino in modo che i loro clienti e tutta la città ma anche diciamo così fin dove giunge la comunicazione dei social si sappia che a Fano c'è quella manifestazione ebbene ne guadagna la manifestazione stessa ne guadagnano gli operatori in termini di presenze e ne guadagna in promozione tutta la città e questo è uno degli aspetti che costituiscono la strategia turistica per il 2023 anche il Corriere Radiatico parla del doppio incidente che si è svolto ieri nella Fano Grosseto chiusa la superstrada per circa un'ora è un lungo chilometro anche di più di fila a Fossombrone è stato sistemato il corso cittadino che verrà riaperto alle auto restaurato il selciato la superficie del selciato che era ammalorata non trattata da 12 anni domani torna il traffico e quindi le auto potranno ripercorrere la centrale cittadina la croce dei cappuccini ha compiuto 70 anni alta 17 metri e mezzo costò un milione e mezzo di lire è un simbolo per tutta la vallata e transitando nella superstrada la si vede alta nel colle dei cappuccini e magari qualcuno può anche salire su questo colle per vedere un bellissimo panorama della città di Fossombrone del furlo insomma poi della vallata del metauro ma anche per visitare il convento che è veramente un oasi di pace e di tranquillità a Pergola si parla di pizze di marca la farcitura con prodotti del territorio venerdì fa tappa a Pergola il progetto della Camera di Commercio delle Marche pizze di marca questo è il titolo dell'iniziativa una regione nel piatto ed è una delle tappe che venerdì si farà al ristorante Il Gatto e la Volpe quello di Gianluca Passetti a Montevecchio di Pergola giriamo ancora la pagina vediamo quella di Senigallia dove si parla di sicurezza ok ai droni per controllare la città ma così spierete tutti sui balconi dice il Partito Democratico che critica il regolamento sulla videosorveglianza il sindaco ribadisce tranquilli tuteleremo i cittadini insomma da una parte si richiede maggiori controlli e le videocamere sono veramente importanti per poi risalire agli autori di episodi di reato e quindi anche i droni possono così aiutare gli inquirenti però c'è il problema della tutela della privacy e qui bisogna restare in equilibrio cioè non disconoscere l'utilità dei droni delle videocamere per la sicurezza ma non infierire sulla tranquillità appunto dei cittadini e siamo in conclusione oddio siamo veramente in ritardo però posso dirvi che non c'è la messa delle 7 e 30 ma la messa che trasmetterà Fano TV sarà alle 11 e verrà trasmessa dalla Basilica di San Pietro a Roma quindi niente messa da Loreto ma abbiamo la messa appunto dalla Basilica di San Pietro e questo per il momento è tutto Massimo Foghetti vi saluta vi dà appuntamento domani alle 7 per le notizie del giorno alle ore 20 e 30 ad occhio la notizia il telegiornale di Fano TV grazie per l'ascolto a risentirci di San Pietro Grazie.